Andrea Fai, da 125, gruppo 2, cabazzetta. Andrea, la gara è andata molto bene oggi? Eh, oggi, guarda, un po' di problemi, però dai. Mi sono, ho cercato un po' di scatarmina, secondo amare, che è andata a me bene, meglio di così. Problemi di che tipo, motoristici? Eh, guarda, sono preso un traio nuovo, speravo che è una semiglia, però lo metteremo a posto più avanti. Per la prossima gara di girazione, è fin mese? Speriamo che vada bene, cercheremo di fare il meglio possibile.